Si dicono. Che cosa fanno le persone che si dicono con i piedi per terra? Commento. Sorridono spesso dei cosiddetti sognatori. Ma se per sognatore si intende chi non ha un esclusivo contatto con la realtà del piano fisico, allora è chi ha i piedi per terra ad essere un sognatore. Credere infatti che il piano fisico sia l'unica realtà è un'illusione grossolana.